Musica Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo a Cleto per l'immunicazione del Castello di Savuto. L'importanza di questi eventi per la valorizzazione del territorio? Innanzitutto buonasera e grazie dell'opportunità che mi date. Volevo precisare che io sono il Presidente del Consiglio Comunale di San Manco d'Aquino, delega del Sindaco Chieffallo Leopoldo che non è potuto venire in quanto fuori regione, per cui con onore e piacere che sono qua stasera perché qua in effetti si respira aria di cultura e quindi l'inaugurazione di questo castello storico può aprire le porte a questo territorio, a questa vallata molto bella e perché poi con San Manco e Cleto c'è una storia comune che lega i due comuni e quindi può essere un volana di sviluppo, di turismo, di attrazione per le tante persone che possono venire, per cui si respira come ho detto prima un'aria di cultura ma anche un'aria storica perché la memoria storica è importante perché bisogna ricordare il passato per vivere un presente, un futuro migliore anche per le nuove generazioni e quindi da qui un auspicio, un messaggio positivo per la regione Calabria che sia patrimonio artistico, questo castello molto bello che risale al 1200 e quindi come possibilità e prospettive nuove per questa nostra regione. Perfetto, Liberi.tv, Riccardo Cristiano, Cleto.